Vediamo i servizi. La tragedia del crollo nel liceo di Rivoli rompe al Festival del Cinema. Nel pomeriggio un gruppo di universitari ha interrotto la proiezione del film di Giuseppe Bertolucci al Torino Film Festival, chiedendo un minuto di silenzio rispettato dal pubblico. Prima, assemblea di studenti e genitori al Palazzo Nuovo delle Facoltà Umanistiche. C'erano anche i compagni di Vito, il ragazzo morto nel crollo. Stasera animeranno una fiaccolata silenziosa per le strade di Rivoli, che si concluderà proprio davanti alla scuola. Nelle loro parole il racconto di quei momenti, ma anche la rabbia. Uno non può mai sapere. Potrebbe rivedere un edificio perfetto e poi magari in questo edificio ci sono molte cose che uno non sa. La maggior parte delle scuole hanno dei problemi strutturali giganteschi. C'è possibile che ha dovuto morire un ragazzo perché qualcuno facesse qualcosa? Cioè non si poteva far prima qualcosa? Stanziare dei soldi? Perché non l'hanno fatto? Intanto rimane stazionale la condizione dei quattro feriti gravi. Tre potrebbero essere dimessi già nei prossimi giorni. Il più serio è Andrea Macri, 17 anni, operato ieri per la frattura alla colonna vertebrale. Domani o martedì subirà un altro intervento nel tentativo di scongiurare la paralisi. A Rivoli si cerca ancora di capire la dinamica dell'incidente. Sono continuati i sopralluoghi dei tecnici e delle autorità al liceo, mentre rimane aperta la polemica sulle responsabilità e sui fondi per la sicurezza. È il 2002, a San Giuliano di Puglia 27 bambini e un insegnante muoiono sotto le macerie della scuola Francesco Iovine. Ai funerali le madri implorano più sicurezza nelle scuole. Ma non passa neanche un anno e si sfiora nuovamente la tragedia, questa volta a Montelibretti dove crolla il tetto dell'asilo. Ileni a 5 anni se la cava con un trauma cranico e una spalla fratturata. A 6 anni dalla tragedia in Molise però un nuovo crollo. Ieri nel liceo di Rivoli Vito Scafidi muore e il padre grida «Meglio un figlio ignorante che morto. Se avete anche solo il sospetto che una scuola possa crollare, chiudetela». La sua rabbia rimbalza in rete. I ragazzi e i genitori di tutta Italia non perdonano le tante morti annunciate e chiedono un impegno serio da parte del governo. Il segretario della CISL Bonanni parla di situazione da terzo mondo che non fa distinzione tra nord, centro e sud. E mentre il ministro Gelmini ricorda che il governo ha distribuito 300 milioni di euro per la sicurezza nelle scuole, i comuni lamentano la totale assenza nella finanziaria 2008 di fondi statali destinati alla messa in sicurezza degli edifici. Dobbiamo cavarcela da soli, dice il sindaco di Ancona. Da un'indagine fatta dal Lanci emerge che l'85% dei finanziamenti e degli investimenti fatti sulla manutenzione, adeguamento, messa a norma e ristrutturazione degli edifici scolastici, sono fondi propri dei bilanci dei comuni e delle province, solo il 15% dei contributi da parte dello Stato. Secondo l'Associazione Nazionale dei Comuni, per risolvere una situazione ormai critica, il Codacons parla di tre scuole su quattro non a norma, ci vorrebbe almeno un'intera finanziaria destinata alla scuola. Stiamo parlando di qualche miliardo di euro di investimenti. Soprattutto bisognerebbe farlo in maniera preventiva e non all'indomani delle tragedie che purtroppo sono accadute.